Io penso una cosa, che una persona del suo carisma, della sua professionalità, che si candida e mette a disposizione la sua capacità, che ha dimostrato nelle cose che ha fatto, e dall'ostia mare, nelle sue attività, nelle sue cose, è un potenziale positivo per noi, per noi dirigenti. Posso essere di parte sicuramente come dici tu, ma è una persona che scende in campo, che ha veramente gli attributi, posso dirla attributi, lo vuoi dire, lo vuoi dire, trasmissione. Pertanto voglio dire, è un po' anche di ringiovanire, perché senza nulla togliere al Presidente Zarelli, che ha fatto il suo percorso indifferente, indifferente, i 18 anni alla guida della Federazione, sicuramente ci sono state molte cose importanti. Tantissimi meriti. Tantissimi meriti. Si mancherebbe. Però voglio dire, vedi, un piccolo esempio, ti rubo due minuti. Prego. Nelle aziende, io che ho 43 anni d'azienda, e ancora non ho 60 anni, però mi stanno mettendo già da parte, perché chiaramente, percorso mio, l'ho fatto, posso essere bravo, posso essere simpatico, ma il mio percorso lavorativo è finito. Pertanto, voglio dire, uno si deve rendere anche conto, no? In un'ottica di ricambio, tu dici? Ma sì, voglio dire, un ricambio è anche generazionale, ci deve essere, perché sicuramente l'innovazione che porterà il Presidente Lardone all'interno della Federazione, oggi non la porta il Presidente Zarelli, no? È un impulso nuovo. È un impulso nuovo, idee nuove, voglio dire, caratteristiche diverse. Sicuramente è, perciò senza togliere né al vecchio né al nuovo, perché chiaramente per me Lardone è il top che potremmo avere come Presidente della Federazione. Caratteristiche, Piero, che li riconosci maggiormente, perché l'abbiamo sempre detto, è una persona di un garbo consolidato, di un'intelligenza manageriale fuori dal Comune. Qual è la prima prerogativa che ti viene in mente parlando di Luigi Lardone? Rispetto, è una persona che rispetta, educata, a parte le due cose che già hai citato tu, ma è una persona che rispetta molto. E oggi non è poco, non è poco. Pertanto, sicuramente, sono delle doti che uno ha, naturali, non è che le trovi dietro l'angolo. E poi è una persona che si dedica, è una persona che lavora 20 ore al giorno, è una persona che in qualsiasi ora te lo chiami in ufficio. Cioè, veramente, è una persona che al momento che si prende un impegno, poi parlano i fatti. Cioè, io posso dire, ma parlano i fatti... È un uomo di successo. È un uomo di successo. È un uomo che merita il giusto. E poi io sono abituato, in questo momento, chiaramente c'è il mio Presidente che è vicino a lui. A proposito, vogliamo mandare un grande abbraccio, un saluto ad Alessio Bizzaglia, che purtroppo nei giorni scorsi ha subito una gravissima perdita. Una gravissima perdita dello zio, dove lui era molto legato. E se ci riuniamo fortemente a questo dolore che sicuramente è forte. Parlavamo del manifesto programmatico di Luigi Lardone in vista della prossima tornata elettorale, ovviamente. Il Presidente Zarelli, invece, sta seguendo una strategia diversa, almeno fino a questo momento ha preferito parlare a mezzo stampa o attraverso i comunicati, ovviamente, di render noto il proprio programma elettorale in sede assembleare. È una strategia che tu personalmente condividi, Pietro Peri? Ma questa non è una strategia. Questa è una mancanza di idee, è diverso. Perché il programma, quando qua si porta in assemblea, il programma va dato prima. Perché in assemblea io posso fare, aprire un dibattito sul programma. Come faccio io a conoscere in assemblea un programma che poi non posso nemmeno magari controbattere o dire la mia su quello che può essere un programma? No, per me questa è una mancanza appunto di idee. Secondo me era una... Lasciatemela dire. Il fatto che per 18 anni è andata sempre così, no? Un po' alla... alla volemose bene, come dicono a Roma, no? Perché poi alzata di mano, unico candidato, è normale che esce fuori. Forse non se l'aspettava. Non se l'aspettava e chiaramente non avevano pronto un programma. E penso che vogliono ancora mantenere... Lo staranno preparando. Forse in assemblea arriva. Non è sicuramente, non è sicuramente, come diceva Claudio, l'innovazione che serve in questa federazione. Questo è il vecchio. Noi stiamo dicendo che le cose non vanno. A oggi, cosa che non c'è mai stata nel comitato regionale Lazio, abbiamo un antagonista al presidente Zarelli. Perciò tutti i presidenti che io ho sempre sentito lamentarsi in questi anni, perché io dal 1980 che frequento la federazione, che sono nelle società. Ok? A oggi, se i primi anni non va bene, da dieci anni a oggi, sento solo lamentela, anche nella trasmissione del nostro direttore Raffaele. Sempre. A oggi i presidenti hanno in mano la penna per cambiare veramente la federazione, cambiare il comitato regionale. E sarà la prima volta e la prima volta dopo dieciott'anni. Perciò voglio dire, abbiamo un presidente con un programma che tocca tutte quelle che possono essere i discorsi societari. Certo. E un presidente che non ha presentato niente, ma bensì presente il vecchio. Un presidente che ha dalla sua parte diciamo, l'età giovane, quella del dell'ardone e abbiamo l'età meno giovane del presidente Zarello che sono sicuramente idee completamente diverse. Ringiovanire a oggi sta in mano i presidenti. Perciò hanno la penna in mano. Chiaramente, ripeto, ribadisco, oggi avere un programma è importantissimo. Non averlo chiaramente implica delle difficoltà. Le difficoltà a livello sicuramente dei presidenti di chi vuole cambiare qualcosa. Perché potarsi pure che anche lo stesso Zarelli voglia cambiare qualcosa. Assolutamente. Però se non ce lo dice come facciamo noi? Se lì ho cinque punti, io leggo qui i cinque punti e gli sposo tutti quanti a prescindere l'ardone o non l'ardone. Siamo in una campagna elettorale chiamiamola così perché in realtà è questa. Io ho un candidato giovane protagonista che mi porta dei cinque punti che per me sono ottimi ottimissimi direi e ho un presidente che viene da 18 anni di gestione tante belle cose ma anche tante cose che non condivido però dico oggi che vorresti fare che vorresti fare nei prossimi anni di gestione di questo non ce l'abbiamo pertanto voglio dire la bilancia ha due pesi voglio dire ovviamente